In questi giorni non si parla d'altro che di gossi E al centro ci sono loro, e che dopo una, mai confermata, rottura tornano a far parlare di loro in questa calda estate 2021 grazie ad alcuni scatti pubblicati qualche istante che ha da mamma dulten sul suo profilo Instagram Proprio così, lo abbiamo già raccontato, il giovane artista turco ha portato la leotta a Istanbul per fare conoscere Diletta alla famiglia Chi li segue lo sa. Nelle stories e negli scatti i due hanno deciso di passare delle ore piacevoli in barca in compagnia delle persone a lui più care Oltre Diletta e di genitori di, infatti, si vedono anche i manager turchi dell'attore, nonché gli amici storici dell'attore Mamma Goulde mi ha scelto di commentare queste belle immagini come segue. Mia figlia e mio figlio Parole brevi, precise, concise ed incise che dovrebbero mettere a tacere una volta e per tutte il gossip e i dubbi che serpiggiano in rete circa la reale love story di cane Diletta Chi è la mamma? Ma non solo Perché negli ultimi giorni sono circolate in rete anche delle indiscrezioni riguardanti mamma Goulde Secondo le quali l'ex signora Yama non avrebbe visto di buon occhio la relazione del figlio con la conduttrice di Dazon Ecco, dopo questa frase, tutto ci sembra chiaro. Ma chi è la mamma di? Il suo nome è Goulde Manim, non si hanno moltissime informazioni a riguardo, ma sappiamo che la sua presenza nella vita di Estata ed è fondamentale, dato che spesso, ha accompagnato suo figlio ai vari casting e provini Sembrerebbe che Ganden sia impegnata come professoressa di lettere Leggi anche Per quanto riguarda la sfera privata, non è sempre stata rose e fiori questa, forse non tutti sanno che, la mamma è stata sposata con Goulde Aman, padre di Khan, ma solo per pochi anni Infatti, quando l'attore aveva solo 5 anni, i genitori si sono separati, ma hanno continuato a mantenere un buon rapporto Finalmente si scopre qualcosa anche su di lui. Era ora Grazie 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 Grazie